Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 15 dicembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 7, versetti dal 24 al 30. Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito di abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto, ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ascoltava e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro. Oggi il Vangelo è la continuazione di quello di ieri, quindi ci presenta ciò che Gesù dice di Giovanni Battista. Gesù dice che Giovanni è più che un profeta, perché è il messaggero che prepara la sua via. Ma la cosa più importante che Gesù dice su Giovanni è che perfino i pubblicani, che erano considerati più grandi peccatori, sono tornati sulla via della giustizia e del bene grazie al battesimo di Giovanni. Mentre i farisei e i dottori della legge, dato che si sentivano già osservanti di Dio, della legge di Dio e quindi più giusti di tanti altri, poiché avevano ritenuto inappropriato alla loro situazione il battesimo di Giovanni, non hanno permesso a Dio di agire nella loro vita e quindi non si sono convertiti. Questa situazione che Gesù lamenta in merito alla accoglienza del precursore e del battesimo che serviva a preparare la via alla manifestazione del regno di Dio e della gloria del Padre, rivelata proprio in Gesù, in modo del tutto originale e sorprendente, ci offre l'occasione oggi per farci delle domande, per riflettere noi su di noi. Io sono come questi pubblicani peccatori che cerco di aprire il cuore, di purificare i miei modi di fare per poter accogliere il Signore che viene? Cerco di correggermi, di riflettere sullo stato del mio cuore, della mia anima? Oppure faccio come questi farisei e dottori della legge che penso di essere a posto così, continuo a vivere lo stesso senza occuparmi troppo del fatto che il Signore conosce il mio cuore, senza riflettere sul fatto che Dio può sorprendermi e rivelarmi qualcosa di sé e perciò senza mettermi in ascolto del mio cuore Io non mi chiedo cosa può comunicare agli altri la mia presenza in questo mondo, in questo tempo Mettiamoci allora oggi in ascolto del nostro cuore, cerchiamo di accogliere la misericordia che il Signore offre alla nostra vita in questo tempo, chiediamo al Signore di poter accogliere Lui, la Sua grazia, il Suo amore con un cuore purificato come Lui desidera essere accolto, qui ce ne accorgiamo, Lui desidera che le persone passino attraverso la purificazione, così come ha desiderato che il battesimo di Giovanni fosse diffuso a tutti e si rammarica per il fatto che solo i pubblicani, i peccatori hanno deciso di convertirsi e non i dottori della legge ecco chiediamo al Signore di poterlo accogliere con questo cuore purificato perché Lui desidera questo da noi e che possiamo accogliere non con una serie di pratiche, di azioni anche impeccabili o di pratiche religiose buone che sono necessarie ma non basta quello, il Signore chiede la semplicità di chi si lascia amare, di chi si lascia cambiare il cuore ascoltiamo, meditiamo le parole che Dio stesso ci trasmette attraverso la profezia di Isaia che ascoltiamo oggi nella prima lettura della Messa tratta dal capitolo 54 del libro di Isaia versetti dall'1 al 10 del quale leggo un estratto per un breve istante ti ho abbandonata ma ti raccoglierò con immenso amore in un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto ma con affetto perenne ho avuto pietà di te dice il tuo Redentore, il Signore ora è per me come ai giorni di Noè quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra così ora giuro di non adirarmi più con te di non minacciarti più anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero non si allontanerebbe da te il mio affetto né vacillerebbe la mia alleanza di pace dice il Signore che ti usa misericordia ecco ringraziamo insieme il Signore per queste meravigliose parole che la liturgia oggi ci consegna per questo bel Vangelo queste belle parole anche di Gesù su Giovanni ecco con tutta la fiducia che riceviamo dalla parola di Dio che oggi ci viene annunciata e che oggi meditiamo innalziamo i nostri occhi i nostri cuori al cielo a Dio gridando ancora la nostra speranza Maranatà vieni Signore Gesù grazie a tutti